E allora noi pensiamo che la mafia sia questa, ma la mafia non è questa quella mafia, magari parla tre lingue. E si è evoluta. La mafia è un'altra cosa. Le banche. Hanno banche. Ah no, ci sono questi personaggi strani. Che strani... Ora io non vorrei abbinarli alla mafia perché non mi permettono di dire queste cose, ma... Però strani, occulti. Quindi ce n'è uno che vorrei farvelo vedere. Questo qui si chiama Cuccia. Cuccia. Cuccia è uno... è sempre così, con i giornali, che cammina così. Così come se cercasse dei soldi per terra. Non si sa niente. Non ha cariche. È presidente della regione della Mediobanca. Ma dove c'è un casino di miliardi, di fallimenti, di casini, c'è lui. I suoi nemici erano. Mattei, che è atterrato violentemente e non se ne è più saputo niente. Calvi, che ha bevuto un caffè talmente lungo che si è allungato anche lui. Sindona, si è fatto un nodo in un posto incredibile. Gardini, è quello dell'Eni. Cagliari, che si è soffocato con un sacchetto di plastica e poi dicono che la plastica non fa male. Allora, questi qui erano i suoi nemici. Ora, io spero di non stargli tanto sulle balle perché vorrei andare anche ancora avanti. Ma è tutta gente che non si conosce. Grazie. 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 Grazie a tutti.